Un incontro con gli studenti per sensibilizzarli alle tematiche relative alla criminalità. Raffaele Cantoni ha spiegato e commentato il suo libro nell'Istituto Gagliani di Via Don Bosco a Napoli, dove si è parlato anche di lotta al racket. Io credo che agli studenti, ma in genere ai cittadini, bisogna parlare per due ragioni. Prima di tutto per dimostrare che le istituzioni non sono così lontane. Una delle ragioni di scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni che soprattutto hanno i ragazzi e quelle di vederle molto lontane. Queste sono occasioni nelle quali, fra virgolette, le istituzioni si toccano con la mano. Le istituzioni non sono lontane, le istituzioni sono fatte da uomini normali che si vogliono confrontare sui temi normali. Primo. Ma io credo che ci sia un'altra ragione, cioè quella di far capire che la lotta alla criminalità organizzata non è un problema di poliziotti, carabinieri, magistrati, eventualmente di giornalisti. È un problema di tutti. Tanto la lotta alla criminalità continua, a Caserta l'attacco è continuo ai casalesi, soprattutto dopo gli arresti di Setola e quelli che sono avvenuti negli ultimi giorni. A Napoli importante anche l'arresto di Vincenzo Sarno. Ma guardi, io credo che la lotta alla criminalità organizzata non si sia mai fermata. Ora noi non abbiamo nessun clan della Camorra che conta, i cui capi sono liberi. In qualche caso sono latitanti da anni, e questo capita per esempio in alcuni capi dei casalesi. Ma oggi la latitanza non è più la latitanza dorata. Tutto sommato i risultati eccezionali che sono stati ottenuti dal punto di vista investigativo non coincidono ai risultati sociali. Ed è la dimostrazione, credo, che non basti solo la repressione, che c'è bisogno d'altro. Perché se si arrestano 50 persone e il giorno dopo è pronto un esercito di altre 50 persone a rientrare, c'è qualcosa che non funziona.